Buongiorno a tutti carissimi cinefili e cinefile, ben ritrovati in questo nuovo video. Dunque, oggi voglio parlarvi di un film che sono andato a vedere ormai qualche giorno fa al cinema ed è Il Corriere de Mule del maestro Clint Eastwood. Se ancora non avete visto il film in questione, magari tornate in un secondo momento a vedere questo video perché farò qualche spoiler. Dunque, mi sembra che questo sia il trentasettesimo lungometraggio di Clint Eastwood un film che è tratto da una storia vera, una storia che risale mi sembra al 2011 è il caso di Leo Sharp, un novantenne che venne arrestato nell'ambito di un'operazione antidroga e lui appunto era il Corriere di un cartello messicano che trasportava droga negli Stati Uniti e fece scalpore il fatto che lui, Sharp intendo, era un Reduce della Seconda Guerra Mondiale che si era ritrovato a questa veneranda età a fare appunto il Corriere della Droga. Insomma, questa fu una notizia abbastanza interessante che ha ispirato Clint Eastwood e soprattutto lo sceneggiatore Nick Shank che è lo stesso che ha realizzato la sceneggiatura di Gran Torino a realizzare questo film dove Clint Eastwood torna a vestire i panni di un Reduce della Guerra di Corea mentre Leo Sharp è un Reduce della Seconda Guerra Mondiale nel film invece è un Reduce della Guerra di Corea di nome Earl Stone che è un Floricoltore che appunto nell'Incipit ambientato nel 2005 ci mostra nella sua, è il caso di dirlo, florida attività è un signore attempato che viaggia di continuo va alle fiere, promuove il suo prodotto ma già si affaccia sul mercato diciamo lo spettro che inizialmente insomma viene sbertulato un po' da Earl Stone cioè di questi negozi, di queste catene online che si mettono a vendere pure i fiori e vediamo che nel frattempo mentre lui si trova a questa fiera c'è il matrimonio della figlia Iris interpretata tra l'altro da Alison Eastwood la vera figlia di Clint tutti quanti aspettano che Earl si è presente alla festa però in realtà lui non arriva e da quel momento la figlia romperà ogni tipo di rapporto con il padre e anche il matrimonio naufraga definitivamente perché la moglie deciderà, la moglie Mary interpretata da Diane Weist deciderà appunto di separarsi da Earl Stone poi c'è un balzo temporale in avanti siamo nel 2017 e insomma la tanto sbertucciata internet il tanto sbertucciato internet purtroppo ha preso il sopravvento i negozi online ormai fanno la parte del leone sul mercato e l'azienda di Earl va in fallimento Earl Stone ha dovuto ipotecare anche la casa gliela stanno per pignorare la banca sta per togliergli tutto deve trasferirsi insomma a 90 anni è sull'astrico con una situazione familiare disastrosa l'unica persona con cui ha ancora un rapporto amichevole, amorevole è con la nipote Ginny figlia di Iris ovviamente e però ecco si presenta un'occasione al rinfresco prematrimoniale della nipote c'è una lite con l'ex moglie eccetera arriva un ragazzo un giovanotto che lo avvicina e che apprende il fatto che Clint Eastwood con il suo pick up ha girato praticamente per tutto il paese per tutti gli Stati Uniti senza mai beccarsi una multa in tanti anni di attività e allora questo fatto lo incuriosisce gli propone di andare in un posto in un garage dove troverà delle persone che gli daranno da lavorare dove lo pagheranno sostanzialmente per guidare e basta Airstone è in una situazione di necessità economica e quindi pensa che questa sia una buona idea si presenta da queste persone che subito si rivelano essere dei tipi poco raccomandabili che gli dicono guarda tu col pick up prendi questa borsa vai in questo posto lasci il mezzo per un'ora con le chiavi dentro te ti fai un giro poi ritorni i tuoi soldi che ti spettano saranno nel porta oggetti e basta e poi te ne vai sparisci non devi fare altro e senza fare troppe domande Airstone accetta fa questa commissione e alla fine si ritrova con un pacco di soldi in mano con una bella quantità di dollari e da lì inizia diciamo la sua attività la sua attività di corriere della droga perché a un certo punto Airstone scopre che sta trasportando dei grossi quantitativi di droga e qui forse secondo me la la scrittura un pochino azzoppicata perché cioè lui se non ricordo male si ricorda cioè si ricorda si rende conto che sta trasportando della droga e in grosse quantità tipo al terzo viaggio che lui sta facendo per chi vedrà il film o per chi ha già visto il film quando lui si trova a contrattare o meglio si trova a ricevere la missione da questi tipi cioè fatti una domanda e datti una risposta sono chiaramente dei criminali cioè uno addirittura si fa vedere con un fucile d'assalto di certo non è che ti mandano a consegnare del latte in polvere quindi beh che lui si renda conto di questa cosa al terzo viaggio mi è sembrato insomma ha fatto apparire il personaggio troppo ingenuo forzatamente ingenuo però a parte questo a parte questo Armstrong comunque prende coscienza di quello che sta facendo ma siccome dopo ogni viaggio lui evidentemente trasporta sempre più roba riceve sempre più soldi e quindi lui riscatta la casa fa riaprire il club dei dei reduci fa regali agli amici aiuta aiuta la nipote la nipote Ginni per il suo per il suo matrimonio insomma grazie a questi soldi lui sta cercando anche di come dire di recuperare il rapporto con gli altri e con e con la sua e con la sua famiglia perché comunque Airstone è una persona di buon cuore espansiva sicuramente è all'opposto del del personaggio di Kowalski in Gran Torino per 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 intendersi però ecco il film ci mostra questo questo nostro protagonista come una persona sicuramente affabile generosa eccetera ma Clint Eastwood non esita a far emergere tutte quelle che tutte quelle che sono le contraddizioni evidenti e anche stridenti di questo di questo personaggio perché lui che si è sempre dedicato per esempio ai fiori ha sempre coltivato i fiori con passione quindi lui ha mostrato un certo amore per le cose che crescono però si è dimenticato per esempio di coltivare il suo rapporto con la famiglia di coltivare sua figlia per esempio di coltivare il rapporto con la moglie e anche questo è un aspetto estremamente importante che però Airstone ha tralasciato ha sempre messo davanti alla famiglia il lavoro e ora che si trova diciamo nell'ultima fase della sua vita ripetisco che Airstone è un novantenne cerca di recuperare il rapporto perduto non può chiaramente tornare indietro nel tempo il tempo è una cosa che non si compra infatti anche su questo c'è una riflessione importante da parte di Clint Eastwood cioè ciò che non si è riusciti a fare ciò che si è perduto in questi anni non verrà mai recuperato il tempo non verrà mai recuperato nemmeno se guadagni una paccata di soldi ogni volta perché Airstone tutte le volte che fa un trasporto riesce a guadagnare cifre pazzesche incontanti però allo stesso tempo tutto ciò viene messo in forte contrasto con ciò che lui non potrà mai comprare con quei soldi con quei soldi lui sì può comprarsi un nuovo pick up bellissimo può comprarsi un braccialetto d'oro può aiutare i suoi amici può aiutare i suoi familiari ma non potrà mai recuperare quegli anni che lui alla fine si rende conto di aver sprecato e infatti questa necessità a un certo punto di recuperare il rapporto con i suoi familiari diventerà una necessità talmente evidente talmente impellente irrinunciabile che lo porterà a fare una scelta come dire radicale una scelta estremamente pericolosa perché nel frattempo all'interno del cartello per cui lui lavora c'è stato un avvicendamento al vertice il boss Laton che è interpretato da da un da un Andy Garcia molto convincente anche simpatico diciamo seppur nel ruolo del criminale che gli dava praticamente carta bianca perché insomma Airstone riusciva a trasportare incredibili quantità di droga nel paese riusciva a farlo meglio di chiunque altro c'è un avvicendamento Laton viene ammazzato viene sostituito da un altro boss che invece è più rigido che non tollera più magari le deviazioni sul percorso che fa che fa Airstone non tollera più i ritardi alle consegne eccetera e quindi c'è una forte pressione sulle spalle di Airstone viene minacciato anche di morte e nel momento in cui lui sta trasportando il carico più grande che gli sia mai capitato un carico che vale milioni di dollari e quindi se non verrà consegnato chiaramente lui sarà ucciso nel momento in cui lui sta viaggiando però succede che la moglie la ex moglie sta purtroppo morendo è una malata terminale non so se di cancro e polmoni ma comunque è una a una malattia che ormai la sta portando alla morte l'hanno rimandata a casa la nipote Ginni riesce a contattare il nonno per dire che purtroppo la nonna sta morendo e inizialmente Airstone dà la risposta di sempre ma adesso io non posso sto facendo una cosa veramente importante sto lavorando quindi ancora una volta lui mette diciamo il lavoro se si può chiamare lavoro davanti alla famiglia e di fronte alla delusione rabbiosa anche della nipote Earl si rende conto che non può sprecare anche quest'occasione viene come dire punto nel vivo anche perché ricordiamoci che il personaggio di Ginni è diciamo l'ultimo l'estremo legame che lega Airstone alla sua famiglia quindi alla sua sfera affettiva e a quel punto Earl decide di mandare tutto quanto a puttane di fare marcia indietro e di andarsene a trovare la moglie lui sparisce dalla circolazione e nell'ultimo momento nell'estremo istante della vita di Mary Earl rimane al suo fianco fino alla fine e diciamo che in questo modo riesce a portare a compimento quel suo processo di riscatto agli occhi dei familiari infatti lui alla fine riesce a riallacciare i rapporti con l'ex moglie riesce soprattutto a riallacciare i rapporti con la figlia Iris che torna a parlare con lui che insomma a un certo punto lo perdona riesce a perdonarlo e quindi in questo modo Earl attraverso una perdita comunque dolorosa riesce a e ovviamente attraverso il mettersi in gioco con tutto se stesso cioè lui mette in gioco la sua vita riesce a riguadagnare ciò che veramente l'importante c'è nella sua esistenza cioè la sua famiglia ciò che ha sempre trascurato le persone che ha sempre messo da parte in realtà sono la vera fonte di importanza di valore che dà vero valore alla sua alla sua esistenza e di questo lui se ne rende conto nella parte finale del film ed è il motivo per cui alla fine quando lui viene catturato perché diciamo che il film si muove su due binari da una parte abbiamo Airstone e le sue vicende dall'altra abbiamo il personaggio di Colin Bates che è interpretato da Bradley Cooper che con il suo partner l'agente Trevino interpretato da Michael Peña stanno facendo un'indagine stanno portando avanti un'operazione antidroga e a un certo punto si mettono sulle tracce di questo corriere che sta trasportando enormi quantitativi di droga negli Stati Uniti sta diventando una sorta di celebrità nell'ambiente della malavita e quindi piano piano insomma le indagini portano la polizia anzi la Dea sempre più nelle vicinanze di Airstone fino a quando poi insomma grazie anche ad un informatore la polizia riesce a catturare il nostro il nostro Airstone e c'è quindi un processo a suo carico e nel momento in cui c'è il dibattimento l'avvocato l'avvocatessa che difende che difende l'imputato comincia insomma la sua ringa difensiva dicendo che questa persona in realtà è stata la stessa raggirata se si sono approfittati del suo buon cuore della sua bontà è una persona che ha servito gli Stati Uniti è un veterano di guerra eccetera eccetera a un certo punto Airstone dice no no guarda lascia stare mi dichiaro colpevole colpevole sono colpevole punto cioè è il momento ormai in cui il personaggio accetta di assumersi le sue responsabilità per tutta la vita lui si ha lavorato ha diciamo portato il pane in casa eccetera però è sempre fuggito dalle sue responsabilità come genitore come coniuge e questa volta lui non lo vuole fare non vuole nascondersi dietro un dito non vuole scappare dalle sue responsabilità e accetta quindi l'idea di essere condannato l'idea di dover scontare una pena una pena una pena che non è solo per quello che ha fatto per le leggi che ha infranto ma è una pena anche per per quello che lui è stato come persona nel corso della della sua vita verso appunto i suoi parenti come dire il processo all'interno del suo personale processo di espiazione c'è anche questo c'è una condanna penale che però ha una valenza anche personale e questo cosa cosa ci dice alla fine che il personaggio di Hearthstone nonostante sia una persona affabile simpatica è capace di catturare la simpatia del pubblico gli spettatori sicuramente empatizzano molto con lui e da un certo punto di vista possono anche parteggiare per questo per questo anziano vitale ed espansivo però il regista Clint Eastwood non si dimentica mai di farci capire che lui per quanto apparentemente possa sembrare accattivante come personaggio in realtà stiamo parlando di una persona che ha dei grossi difetti una persona che ha dei lati veramente pessimi sia dal punto di vista come come persona come genitore come marito ma anche come cittadino cioè Airstone può essere il veterano che ti pare può essere stato un membro produttivo della società per un sacco di anni però poi alla fine è entrato a far parte di un mondo oscuro di un mondo criminale di un mondo che sparge veleno perché lui è comunque un 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 criminale che di questo si tratta che ha contribuito a diffondere il veleno della droga negli Stati Uniti quella droga finisce nelle mani magari di ragazzi giovani di giovani come come Ginny Ginny nel film non si droga ma ci possono essere tante ragazze nel paese negli Stati Uniti che noi non vediamo ma che vengono che Airstone non ha mai visto non ha mai incontrato ma che vengono indirettamente uccise o comunque che hanno la vita rovinata proprio a causa dell'attività criminale di Airstone quindi il discorso che fa Clint Eastwood è un discorso profondo assolutamente non assolutorio nei confronti di Airstone e questo noi lo vediamo anche per esempio quando emergono quelle che sono i pregiudizi di Airstone lui fa parte di un'altra generazione chiaramente è uno che che purtroppo ha interiorizzato molti stereotipi razzisti e magari e sessisti anche che li utilizza con una certa ingenuità magari non lo fa con cattiveria però comunque è portatore di disvalori che Clint Eastwood non assolutamente non si fa problemi a mostrare questo porta anche lo spettatore a non empatizzare troppo con il personaggio di Airstone cioè quando Airstone a un certo punto insomma definisce i messicani come mangiafagioli oppure si rivolge ad una famiglia di colore che ha la macchina la macchina ferma a causa di una gomma mi sembra che si è bucata lui si ferma e li aiuta quindi fa un gesto generoso però li chiama negri e insomma lì sta un po' tutta la contraddizione del personaggio cioè un personaggio che naturalmente è buono ma allo stesso tempo si fa portatore di elementi che sono un po' disturbanti diciamo e che non permettono allo spettatore di entrare veramente in contatto con questo personaggio o meglio non consente allo spettatore di avere tutte le simpatie per questo protagonista e tra l'altro ecco quando Clint Eastwood ci mostra Airstone critica che non capisce perché le nuove generazioni sono tanto legate agli smartphone a queste cose che lui considera inutili in realtà il personaggio di Airstone non si sottrae alla tentazione edonistica perché perché ad un certo punto in un certo momento del film la ex moglie si accorge che lui ha un vistoso braccialetto d'oro al polso ecco quel braccialetto d'oro ha la stessa valenza e la stessa inutilità del tanto criticato internet o del tanto criticato smartphone che puntualmente insomma nel film Airstone decide di appunto di criticare ed è una cosa che ho trovato interessante sempre nel personaggio di Airstone che appunto giganteggia nel film lo avete capito è il fatto che alla fine lui si sente anche di lasciare una sorta di eredità un'eredità che che è un messaggio un messaggio che va al personaggio di Colin Bates che va alla sua famiglia che va allo spettatore e forse forse è un messaggio che che attraverso il personaggio di Airstone da Clint Eastwood proprio come persona come se fosse lui stesso a parlare cioè io ho sempre messo davanti il lavoro e ho trascurato la famiglia questo è un errore in realtà in realtà la famiglia conta più di tutto gli affetti contano più di tutto è ciò che da tutto ciò da veramente importanza e un senso alla vita questo è il messaggio che che ci vuole lasciare il personaggio di Airstone che lascia quando c'è l'ultimo incontro con Colin Bates e che Clint Eastwood ci lascia a noi proprio quindi questo è un film che ha insomma che ha molti messaggi che ha molte chiavi di lettura che fa un discorso estremamente variegato quindi un film molto profondo assolutamente non è banale non è un film da dire che sia che è semplicemente carino o che è un'opera minore di Clint Eastwood no qui siamo di fronte ad un film a mio avviso importante un film dove chiaramente la bravura tecnica di Eastwood emerge nuovamente nell'utilizzo della macchina da presa nel montaggio nella scelta anche delle musiche che sono perfette per un film on the road come è questo qui con una con una splendida fotografia con questa con queste pianure soleggiate luminosissime e e anche con queste con queste luci estremamente accattivanti e illusorie che noi troviamo per esempio nella casa di di Laton il boss del cartello della droga che a un certo punto insomma invita Clint Eastwood nella propria residenza e noi vediamo addirittura questi questi a cappa che sono fatti d'oro con questo lusso enorme ma che poi in realtà non serve altro che a nascondere la la vacuità la la vuotezza delle delle persone che che ci vivono lì dentro per esempio il personaggio di Gutierrez che è quello che a un certo punto viene messo a guardia diciamo di Airstone è un personaggio in realtà che è abbastanza significativo è uno che che in realtà lavora per questo cartello per motivi di gratitudine nei confronti del boss del boss Laton però in realtà lui non è che sta conducendo probabilmente la vita migliore che che gli sia che la vita gli poteva gli poteva offrire se ne rende conto anche lo stesso lo stesso Airstone il quale a un certo punto gli consiglia amichevolmente da amico di lasciar perdere insomma di trovare un'altra un'altra attività un altro lavoro e poi il film secondo me è interessante per il fatto che riesce a mescolare bene elementi drammatici anche di thriller con elementi di commedia ci sono delle battute ci sono dei momenti in cui si ride in cui l'attenzione viene stemperata e questi sono i momenti dove il personaggio di Airstone guadagna ecco qualche punto riesce lì veramente ad essere accattivante per il pubblico e lì si rende veramente quasi non lo so quasi amabile dalle dagli spettatori quindi insomma questo è un po' il il mio pensiero sul film le interpretazioni degli attori sono sono assolutamente convincenti Clint Eastwood sempre insomma sempre grande mattatore sotto ogni punto di vista io questo è un film che consiglio consiglio a tutti di di vederlo proprio perché il discorso che viene fatto all'interno della pellicola è un discorso che si può cioè che abbraccia tanti ambiti e che rende questa pellicola assolutamente non banale ed è tutt'altro un'opera minore di istruzione qui siamo di fronte a a grande cinema ad un film pregno di significati di messaggi e che assolutamente merita di essere visto in sala quindi andatelo a vedere e qui si conclude il mio sproloquio sull'ultima fatica di Clint Eastwood iscrivetevi al canale se non l'avete se non l'avete ancora fatto vi ringrazio per avermi seguito fino a qui noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti